Il Papa ha sottolineato che possiamo vivere talmente schiacciati sul presente che perdiamo la prospettiva del tempo e credo che abbia richiamato uno degli elementi che caratterizza la vita di tante persone oggi perché non si vuole guardare indietro e soprattutto perché si ha paura di guardare avanti schiacciati sul presente oppure girando intorno al tempo il tempo è una cosa però talmente seria che non possiamo né girarli attorno né pretendere di conficcarlo sul muro come un chiodo che fissa il tempo se siamo consapevoli che il tempo invece ha il respiro stesso della vita siamo in un certo qual modo obbligati ad imparare a respirare il tempo che viviamo ed è bello quando impari a respirare il tempo perché ci sono tante stagioni nella vita in cui il respiro può essere affannoso oppure può essere estremamente lento rilassato può essere un respiro di ansia o di gioia poter entrare nel respiro della vita credo che sia il modo più bello per vivere l'esperienza del morire come esperienza di un cammino ha sottolineato Papa Francesco che non ci sorprende ma semplicemente di cui prendiamo atto la morte come atto finale è un fatto ma c'è un morire a cui dobbiamo educarci aggrappandoci con passione a quel respiro della vita chi non impara a respirare la vita vivrà non solo male ma morirà anche male